Eder. Mech. Pallister. Condanna di otto anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote. Presto sarà un uomo libero. Restano ancora in carcere, dove scontano la pena dell'ergastolo, passata in giudicato, sua moglie Cosima Serrano e sua figlia Sabrina, ritenute le assassine di Sara. Misseri ha ottenuto la riduzione della pena per buona condotta e beneficerà della norma svuota carceri che abbatterà di oltre un anno la detenzione il cui termine era inizialmente previsto. Nel 2025. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.